Vi faccio vedere i pezzi più costosi del mio KTM di Aliexpress Partiamo dalla mascherina, mi è costata 27 euro da Tiger Le fascette rosa di Aliexpress hanno un valore inestimabile e ce ne sono addirittura 4 Il cavalletto, come vedete, è attaccato alla moto, quindi è un pezzo effettivo della moto Costa 100... boh, 100 rupie, non mi ricordo quanto l'ho pagato La targa costa solamente qualche attimo di paura fuori da qualche cantiere e basta Ma la vera cosa che vale di più è questo euro incastonato, vale esattamente un euro